Ciao a tutti sono Luca di Double Clutch e questa è la presentazione della scarpa Nike PG4 Io non so più come si va avanti Ah è una cosa nuova, non ti ricordi? È una cosa assolutamente nuova Praticamente adesso tu muovi un po' le mani e dici cosa di bello a questa scarpa che hai in mano e anche al piede Fantastico, un sacco di punti di vista Abbiamo quattro camere adesso? Quattro Ma è una roba incredibile davvero No cerchiamo di non perdere il filo Allora presentazione della scarpa Nike PG4 È importante dirlo anche in italiano che non ci perdiamo Iniziamo con questa signature, questa nuova signature show di Paul George Ripartiamo alla grande appunto a parte gli scherzi Siamo stati fermi un bel po' con le riprese di queste presentazioni tecniche Perché avevamo veramente tantissimo da fare Eravamo in giro Sì siamo stati in giro e saremo in giro anche la settimana prossima Quindi oggi dovremo cercare di registrare anche più video Quindi bando alle ciance Partiamo subito con la traction di questa PG4 Come trazione abbiamo un pattern diverso dal solito È il storytelling pattern Quindi riprende sempre tutto il mood di Paul George della luna Quindi con questi holes, questi cerchi Che comunque danno davvero una buonissima presa sul terreno Questo perché l'ho visto più che altro nelle performance reviews Degli youtuber americani che seguo Perché come sapete io posso presentarvi la scarpa Vi spiego tutti quelli che sono i dettagli tecnici Ma non le provo tutte sul campo Al massimo le provo al piede qua in store Come vedete al piede in questo momento ho la colorazione black Mentre in mano ho la prima colorazione Gatorade Mentre uscirà anche la seconda tra due giorni per l'All Star Game Appunto una bomba entrambe Questa è quasi finita ma forse riusciremo ad avere qualche pezzo Quindi state sintonizzati La nuova Gatorade quindi quella All Star Game Finirà secondo me prima di subito Andiamo avanti tornando ai nostri aspetti tecnici Parlando adesso di ammortizzamento Cushioning Abbiamo full length air unit Come possiamo vedere da questo piatto Che non è un piatto laterale Insomma è semplicemente un dettaglio di design Inserito proprio per far dare più risalto A questa air unit A tutta lunghezza Quindi dalla parte posteriore a quella anteriore Inserita esattamente sotto alla soletta Quindi è lo stesso concetto dello zoom strobel di KD12 KD12 ma fatta con l'air unit Quindi air strobel Questo per darci una buonissima sensazione di comfort E anche protezione dagli impatti Sicuramente non ci dà chissà che reattività come scarpa Non so se tu l'hai provata tra l'altro No io non l'ho ancora provata Avevi provato la Witness forse tempo fa Che ha più o meno la stessa air unit Punta tantissimo sul comfort Ovviamente anche grazie al Filon Che è utilizzato come carrier Quindi come per tutto il resto dell'intersuola Che è molto molto morbido anche quello Per quanto riguarda i materiali Abbiamo una scarpa abbastanza semplice Di per sé anche se sembra molto strana Molto complessa Ma non c'è altro che uno overlay Che è quello che vedete qua con la cerniera Tra l'altro bellissima Nel senso che è molto facile da gestire Come vedete ovviamente ci sono i lacci sopra Ma vedete che è veramente super super morbida Si apre e si chiude molto in fretta Non sembra ma è una cosa che tanti di voi appunto Mi hanno chiesto e quindi ci tenevo a precisarlo È veramente molto molto facile da gestire In più c'è anche il laccio che volendo esce E quindi lo allacciamo sopra allo shroud Sopra questo overlay Altrimenti lo possiamo staccare da questa asoletta E allacciare proprio sotto alla cerniera in sé Tra l'altro uno dei temi Prima che avessimo la possibilità di averla in mano Era proprio quello di capire Quanto questa cerniera tenesse Sì perché PG Esatto Le prime partite le utilizzava aperta E tanti la stanno utilizzando comunque aperta Allacciandola appunto sotto Perché se no è scomodissimo Quindi togli questa asoletta e via Un'altra cosa interessante È tutto il materiale che c'è sotto Quindi la vera e propria scarpa Perché questo è solo un rivestimento Una copertura più che altro estetica Perché a livello di lockdown C'è una buona sensazione Quando si chiude la cerniera Ma non dà quella vera e propria sicurezza Invece questo è dato da Tutto la gestione dei materiali E soprattutto del lacing system Nella parte sotto Che appunto si vede pochissimo Non riesco a farvela vedere Ma fondamentalmente ci sono queste asole Che arrivano fino alla base della scarpa E ci danno una buonissima chiusura Un buon lockdown di tutta la tomaia La forma della scarpa tra l'altro è veramente molto buona Segue tantissimo il piede E qua mi allaccio invece a quello che è il discorso Calzata Tasto assolutamente Dolente Dolentissimo Perché veste incredibilmente stretta È impossibile andare true to size Quindi io Sapete che mi sbilancio raramente Ma vi dico assolutamente Mezza taglia in più serve sempre Senza dubbio Neanche proprio pensarci Mezza taglia in più Rispetto a quello che vestite regolarmente Vogliamo dire una taglia in più? Allora Non mi fido mai a dire una taglia in più I miei colleghi Hanno visto che anche qua in store Le persone acquistano da mezza A addirittura una taglia in più Rispetto al solito Io per l'acquisto soprattutto online Non me la sento di dirvi una taglia in più Quindi vi dico mezza taglia in più Poi in caso la provate Se ovviamente la provate sempre in casa Solo per facendo quattro passi sul tappeto Magari così non si sporca Se ci dovesse essere bisogno del cambio Noi di Double Clutch facciamo sempre il reso Ma in realtà tantissimi Tutti gli e-commerce fanno il reso per cambio taglia Però lo facciamo Comunque nel 2020 una scarpa così stretta Cioè a me è un po' Fa un po' di noia me la dà Allora è sempre un casino con le taglie Assolutamente sì C'è tantissima gente ancora convinta Che tutte le scarpe vestano diversamente In realtà raga non è così Nel senso le scale taglie sono universali Ovvio le conversioni soprattutto in taglie europee Sono diverse da un brand all'altro Ma se trovate la taglia 29 cm Che è l'11 US in Nike E in realtà è l'11 US anche in Adidas Per dirvene una È quella Quindi la scarpa veste 11 US Normalmente veste così Poi ci sono le eccezioni come questa per esempio Perché in ogni scarpa può capitare Che ci sia uno stampo diverso Ci sia una lavorazione diversa della tomaia Soprattutto che dà una sensazione di taglia diversa Ma in realtà la suola è quella che dà la forma della scarpa Insomma ed è sempre correlata alla scala taglia normale Quindi è sempre quella Quindi chiuso questo discorso qua Andate su di mezza senza nessun dubbio Per quanto riguarda il supporto di questa PG È una scarpa ovviamente low top Quindi sappiamo che anzi in realtà sappiamo però Che il supporto della parte posteriore Non è dato dalla parte della tomaia Quindi dall'altezza della scarpa che vediamo Ma bensì dalla struttura che c'è nella parte posteriore Quindi dell'heel counter Che ci mantiene belli stabili all'interno della base d'appoggio E anche dalla suola in sé Che deve essere bella larga e stabile Come vediamo qua c'è anche un piccolo outrigger Quindi un allargamento della base della scarpa stessa Per darci sempre più superficie d'appoggio E quindi più stabilità Inoltre e qua chiudo perché secondo me vuol dire qualcosa Vai vai È importantissimo anche il fatto che questa PG È molto bassa verso il terreno Sempre super super confortevole Grazie alle unit e al filon molto morbido Ma ci mantiene belli bassi Belli reattivi e scattanti Ergo siamo molto più stabili E più protetti in termini generali Volevo dirti che probabilmente è arrivata fresca fresca La colorazione All Star Quindi se riusciamo Secondo me Se vuoi fare un giro tu Intanto mentre faccio le considerazioni finali personali Intanto faccio un recap Ammortizzamento materiali Calzata Support Ok ho detto tutto In termini Considerazioni finali e personali Su questa nuova Paul George Allora in realtà Tutte le signature su di Paul George Fino ad ora Sono state davvero una garanzia Sono andate molto molto bene Il retail price è sempre molto buono Adesso non mi ricordo se è 131 Non 21 Stavo guardando proprio dalla scatola E secondo me Posso fare un passo indietro O mi va fuori fuoco Ok 121 raga È rimasta ferma 121 Quindi molto molto bene È una scarpa che anche esteticamente Ci ha dato veramente tante soddisfazioni Tutte le collab sono state veramente molto fighe Soprattutto le precedenti Le NASA Nella collezione della PG3 E qua invece hanno spinto forte subito su Gatorade Dalla fine sono arrivate Sono arrivate Adesso vediamo se riusciamo A averle Quello che volevo dire io Che è un po' la cosa che mi piace di più E sulla quale mi diletto un minimo L'anno scorso secondo me le colorazioni di NASA Sono state le storie un po' più carine L'arancione Anche la bianca, la nera Quindi hanno lavorato bene Secondo me PG e Lebron Hanno il design più bello A mio gusto E quest'anno devo dire Che la possibilità di avere questo pattern Su questo materiale che ricopre tutto Dalla possibilità di fare delle cose Come con Lebron invece è stato Quella sorta di Fomposite Esatto Quella parte posteriore Che diciamo È molto caratterizzante Però che ti permette di fare Tra virgolette Solo quello Cioè nel senso Non ti permette di creare Una cosa simile Qua avendo questo overlay Dove puoi stampare davvero Effettivamente Non ne avevo detto Su questa colorazione di appunto PG per Gatorade Ci sono tutti questi dettagli Che richiamano ovviamente Alla nota bevanda Tra cui appunto Questa finitura Nella parte posteriore E nella parte di questa aggiunta di fuse Che richiamano proprio questo effetto bagnato E in più tutte queste gocce Che vengono riproposte A tutta lunghezza Importante anche per chi Ovviamente mi fa sempre una testa così Su quanto dura una scarpa Non si può mai prevedere Dipende dall'utilizzo Dal tipo di gioco Dal tipo di giocatore Dal tipo di pavimento Dal tipo di campo È arrivato Dietro a Jacopo Con l'ultima Colorway DPG Vuoi vedere? Assolutamente Sì dammene solo una Però perché siamo in casino Grande Beh allora cambio Incredibile Bang bang Ragazzi Ce l'abbiamo In mano È davvero Davvero Molto bella Molto Bella Ed è Sì quello che dicevamo Prima sulla stampa Anche qua vedi Anche questo Questo effetto qua Questo effetto laterale Sì è veramente strano È un po' tie dye Sì assolutamente Molto bella Molto bene Il fulmine Secondo me Nella tongue Nella linguetta Rispetto alla G Che c'era appunto Nella colorazione Che vi ho fatto vedere Fino a pochissimo fa Veramente Molto 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 bella Bellissimo colore Davvero Bellissima anche la Outsole Questo azzurro Che spacca Perché effettivamente Non è ripreso Da nessun'altra parte Molto bella Molto bene Retail price Dovrebbe essere sempre 121 Anche per questa colorazione Pur essendo una Limited edition All Star Game Eccetera eccetera Una curiosità Sulla Paul George 4 Che ho al piede Invece Tra l'altro vedete Che veste veramente Da dio Esteticamente Secondo me È pazzesca Un'altra di quelle scarpe Se posso Che volevo dire prima È che quando sono usciti L'X Sembrava Completamente Un'altra cosa Sembrava Buttissima Molto più brutta Molto più Grossa Invece è super slim Esatto Assolutamente Una cosa particolare Su questa colorazione Di Paul George Rispetto alle altre Che ho avuto in mano È che La suola È translucent Di base Ma nella parte interna Vedete che È invece In solid rubber È molto particolare Come cosa E secondo me È interessante Perché comunque La solid rubber È leggermente Più performante In qualsiasi tipo Di floor Di corto Insomma Quindi Ci dà Qualcosa in più Che ci può anche far Mettere questa Colorway Anche se è molto più Plan Di queste Bombe Direi che vi ho detto Tutto Ci siamo Velo Frank Sì siamo tornati Con le presentazioni Tecniche Grandi Fateci sapere Assolutamente Cosa ne pensate Fateci sapere Quanto vi siamo Mancati Ma in realtà Ho risposto A centomila commenti Soprattutto sulla PG4 Sulla PG4 Assolutamente sì La prossima che facciamo Secondo me È la Why Not La giriamo proprio adesso E io mi prenderò La maglietta Why Not Bravo Io penso che mi prenderò Questa Grazie mille per il supporto E alla prossima